Assolutamente, chiaramente lui è arrivato da tre settimane, quindi risponde in spagnolo, io tradurrò per voi. Lo primero, a complimento dalle studio, ti pregunto, io ho chiesto le sue sensazioni, le sue emozioni nel segnare il gol decisivo di una vittoria storica che mancava da otto anni a Torino. La verità è che è stata una sensazione straordinaria, fantastica, soprattutto perché ha segnato il gol decisivo di fronte alla sua famiglia che era tutta qui allo stadio, ma da assistere alla partita. Quanto ha reso importante questo gol e questa vittoria, ganare qui per tutto l'equipo? In questo momento è molto difficile. Importantissimo, pesantissimo, soprattutto perché ci stavano mettendo tanto duro lavoro nonostante i risultati non stessero arrivando e questo naturalmente può essere un punto di ripartenza molto importante. Cosa può apportare questa vittoria per i prossimi partiti che abbiamo contro il Cagliari, contro il Genoa, contro la Salernitana? Partiti molto, molto importanti per la classificazione. Sicuramente apporta tanta fiducia, tanta confidenza per il cammino che verrà, ma anche contro il Monza è arrivata una prestazione importante, è arrivato il successo e quindi partite come queste sicuramente danno tanta fiducia a tutto il gruppo. Credo che veniamo in levantata e con la victoria di oggi ci va dare un impulso importante per lo che resta.